Musica Hi people of YouTube Welcome back to a new episode of Centro Uno a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo Completato tutte quante le missioni Di Carnales Quindi King Carnales a posto Mancano solo i Rollers Il che Mi fa pensare che Ormai Siamo a fine gioco Perché io mi ricordo Bene come era strutturato Centro 2 E in sostanza dovevi fare Tutte le missioni Diciamo Di quel momento delle varie gang Passare un attimo in rassegna Altre missioni e poi si sbloccavano Ancora le missioni delle altre gang Il punto che qua Abbiamo già finito i King Abbiamo già finito i Rollers I Carnales Ci mancano i Rollers E ci sono Una, due, tre, quattro, cinque Sei, sette zone Tieni conto che Due, tre di quelle Siano roccaforti Oppure no Ci rimangono Almeno Cinque, sei episodi Secondo me E poi Non so come succede Come avanzerà la storia Quindi Avanziamo È solo una ragazza Bella Sicuramente Beh Ok Ci arrubbiamo le macchine Le carichiamo di esplosivo E poi Le facciamo saltare in aria Cabina del camion Oh merda Dov'è la mia macchina? Eccola Forza, forza Tutti sopra Dobbiamo andare a dirottare un camion Che Dove si trova? Qui Perfetto Donde stas Il camionsino? Eccolo Eccolo Aspetta Ecco qua Pensavo che era dall'altro lato Invece è sopra Forza Fermate il camion Qualcuno Fermi Eccoci arrivati Forza ragazzi È il vostro momento Bella madonna Non dovete sparare il camion Ma siete scemi Ok Ah invece si Eras Dovete sparare il camion Io pensavo dovessimo solo fermarlo Scusami Voi due Mi dispiace Ma stai buono Stai buono Ma ti levi Ecco fatto Come tra i seguaci Scusami Quella che era su con me Che fino ha fatto Ma scusami La tizia che era salita con me Sul camion Che fino ha fatto Forse non è stata una buona idea Andare nell'altra corsia Forse non è stata per niente Una buona idea Devo riuscire a girare Nell'altra Aspetta Ecco fatto Ora è tutto a posto Nessuno mi sta più inseguendo Non ho più un compagno Come non detto Ora mi stanno inseguendo di nuovo Ecco fatto Contro l'altro camion Così ci si libera Delle piccole pesti Amico camionista Buongiorno Ma quanto è l'istante Scusami Quanto è distante Sto posto Ok ci siamo quasi L'importante Che non mi salta in aria È il furgoncino Aspetta Ecco fatto Credo di essermi liberato Di almeno di uno di loro Dai che sono quasi arrivato Su Ormai Guarda la città Che intanto continua A sparire A sparire E riapparire Ecco fatto Siamo arrivati Ah Così Tutto Tutto qua Sta missione Ok Allora mi vado a prendere Questo cd Allora Visto che Sta missione Non è durata Un culo Ecco appunto Ok Non era Non era quello Che mi aspettavo Però grazie Non era ancora finita La missione Signora Ah ok Pensavo lo stesse rubando Il taxi Ecco brava Se ne vada Visto che la missione Non è durata niente Vado a fare Un'altra missione Una modalità secondaria Per presentarvi Un personaggio Un personaggio Che appare Anche in centro 2 E che ha senso Che vi presenti adesso Perché se no Più avanti In centro 2 Non capireste chi è Eccoci arrivati A Chinatown La modalità Che vi presento La modalità Assassino Ovviamente Buongiorno Lost in translation Your table Your table is this way Sir My name is Wong Sheng Tai Welcome to my tea house Please sit down Grazie It is an honor To meet you It is rare in this country To find someone With your tenacity Eh lo so Sono bravo io Ma povero Poverino Ma poi come ha fatto Usi dal dietro Ma devo ucciderli No aspetta Devo ucciderli con quelle armi O loro hanno quelle armi Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti